Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare una delle sfide della settimana 8 in arrivo, che chiede di guidare un'auto attraverso una fenditura. Ci sono diversi posti dove potete guidare l'auto attraverso la fenditura. Uno dei migliori luoghi è in prossimità di Siepi da Grifoglio, dove c'è anche la dimora di Ant-Man. Io adesso vi sto mostrando ovviamente la sfida in anteprima, ma sarà disponibile da questo giovedì alle 15. Quindi dovete atterrare a Siepi da Grifoglio ed arrivare qui da queste parti, dove c'è una fenditura. Quindi per prima cosa atterrate qui e prendete un veicolo. È indifferente, quindi un'auto o un camion fa lo stesso. Quindi prendete un veicolo, è indifferente anche il carburante, ovviamente deve averne a sufficienza per spostarvi, e dovete raggiungere con un veicolo una fenditura. Ora, le fenditure sono sparse per la mappa, ecco, questa è una. Se ne trovate una e non riuscite ad arrivarci, potete sempre costruire, diciamo, una salita. Quindi adesso mi procuro un attimo i materiali, così vi mostro come fare. È molto semplice alla fine. Quindi fate una bella salita, l'ho fatta un po' troppo, ecco, in questo modo, credo che vada bene. Con il veicolo dovete attraversare una fenditura, cioè è molto semplice, vedete? Così. In questo modo qui completerete la sfida. Grazie a tutti.